E' un suggestivo colpo d'occhio quello che adesso rapisce i passanti con giochi d'acqua e di luce accompagnati dalle più celebri musiche del repertorio classico. La gradinata di Via Arabia è stata riaperta proprio per le feste di Natale per ospitare le fontane musicali. Questa è un'opera importante che studisce un'attrattiva anche per tutti quelli che vorranno venire a Cosenza, alla provincia, dall'area urbana, dalla Calabria e quindi visitare la nostra bellissima città. Abbiamo voluto che si inaugurasse adesso prima di Natale, però verrà completata perché mancano ancora alcuni accorgimenti, alcuni affinamenti anche di tipo imbiandistico, i diffusori per la musica che ancora vanno installati. Però l'effetto è molto suggestivo, molto bello, sono contendo. Anche le fontane musicali si inquadrano nel progetto più complessivo che mira a rendere la città di Cosenza sempre più attraente per chi vuole visitarla e scegliere come meta ideale per giornate di svago e di turismo, ma anche per i suoi acquisti. Più noi riusciamo a costituire un polo di attrazione di tipo commerciale, culturale, più aiutiamo tutte le attività che già ci sono in questa bellissima isola pedonale, ma in tutta la città perché più persone vengono a Cosenza, più persone visitano e sono potenziali acquirenti nei negozi. E quindi questo è anche uno dei nostri obiettivi, il nostro compito, stiamo cercando di svolgerlo nel migliore dei modi possibili.